Il trittico di gara è cominciato sabato a Modena che proseguirà domani sera in casa contro il Catania e terminerà sabato prossimo ad Avellino. È stato indicato da molti come il passaggio decisivo per misurare le ambizioni del Bari. Un mini tour de force avviato nel migliore dei modi dai biancorossi. Il successo a Modena, di misura nel punteggio ma legittimato da almeno tre nitide occasioni da gol non concretizzate, ha permesso di riavvicinare la zona play-off e alimentare l'ambizione del Bari di questa stagione. Come il Modena sabato anche il Catania ha teso domani sera in casa attraversa una crisi tecnica che l'ha fatto sprofondare all'ultimo posto in classifica. In teoria gli etnei sconfitti nella gala d'andata rappresentano l'avversario giusto per continuare il buon momento del Bari. Da due gale la squadra non prende gol ma questa non è una novità, mai però i biancorossi hanno infilato tre vittorie di fila. Per questo l'appuntamento di domani sera è vissuto come un nuovo punto di svolta della stagione. Nonostante gli impegni ravvicinati non ha intenzione di applicare un seppur moderato turnover il tecnico Davide Nicola. Uno degli elementi più in forma è il ganese Boateng ma anche Bellomo sta trovando il passo giusto mentre a Galano è mancato almeno sabato a Modena soltanto il gol. Nicola però non si fida dell'ultimo posto in classifica del Catania, degli ex Gillet, Belmonte e Schaudone perché spesso le gare più semplici sulla carta si sono rivelate quelle nelle quali il Bari si è espresso non al meglio. Né tantomeno il tecnico dei biancorossi guarda la classifica. L'ottavo posto certo è possibile agganciarlo già domani sera in caso di successo ma al Bari preferiscono non pensarci. Ogni qualvolta l'hanno fatto c'è stato un rallentamento.